Signore e signori, ciao a tutti, non so di preciso quanto tempo sia passato dall'ultimo video pubblicato su questo canale anzi fatemi controllare, sono passati esattamente 8 mesi, minchia anzi in realtà il mio vero ultimo video, se proprio vogliamo parlare in generale risale a due mesi fa ed è un video intitolato Sonic Adventure, un gioco che mi ha segnato pubblicato però sul canale Lo Strano Caso di Andrea Beneventi che è stato il mio secondo canale per un paio di mesi ma poi ho deciso di abbandonarlo sono pubblici soltanto 3 video che probabilmente dopo l'uscita di questo video o anche prima andrò ad eliminare e forse assieme a tutto il canale secondario vi spiego perché credo di non aver mai citato questo canale in nessuno dei miei social neanche sul canale principale addirittura io avevo aperto quel secondo canale per cercare di fidelizzare una nuova community e per far capire al mondo di youtube che c'è altro oltre al tizio che è appassionato di musica e che recensisce musica infatti se guardate gli ultimi 3 video pubblici io parlo di qualsiasi cosa che non sia inerente alla musica però ieri prima di andare a dormire mi sono reso conto che al giorno d'oggi su youtube è molto difficile crescere come canale emergente perché per andare in tendenza o devi essere per forza un canale affermato da tantissimo tempo che riesce ad organizzare un'intera scaletta con i contenuti da portare in un determinato giorno oppure sei un content creator che cerca di fare questo lavoro da tantissimo tempo e che si sta affermando in quest'ultimo anno e di conseguenza questa cosa mi rende lago in un pagliaio alla fine ritengo questo secondo canale provvisorio un tentativo riuscito male per riaffermarmi all'interno della piattaforma visto che erano già due anni a questa parte che il mio percorso su internet l'ho continuato principalmente o su instagram o su twitch quindi che cosa farò adesso? la risposta che ovviamente sorge spontanea sarà ovvio che riprenderò youtube attraverso questo canale ma in che modo? prestando attenzione alle visual e alle analytics di questo video che vi metterò sopra impressione mi sono reso conto che ha ricevuto lo stesso supporto che hanno ricevuto i due video successivi a questo ovvero il video delle 10 strofe più veloci di madman e il video dove io parlavo del dissing tra eminem e the game e ciò mi ha fatto capire che il mio debutto su twitch ha dato la possibilità alle altre persone di conoscere molte più parti di me non solo a livello di contenuti ma anche a livello personale quindi se prima le persone si interessavano molto di più al contenuto che era incentrato sulla musica adesso le persone si interesseranno molto di più a Andrea Milani o Andrea Beneventi che adesso non è più World of Music perché adesso mi sono creato un nuovo personaggio che io preferisco molto di più rispetto al personaggio del passato in conclusione che cosa cerco di dire? che adesso io potrò stare tranquillo perché se io un giorno di questi pubblico un video dove recensisco un film la gente non si preoccuperà se non è un contenuto simile a quelli che già portai in precedenza perché ora è interessata molto di più a me come persona e questo ovviamente non mi porrà più il solito limite di impostarmi sempre sul solito contenuto perché se non porto quello alla fine io non avrò risonanza all'interno della community perciò dalla pubblicazione di questo video in poi il canale non si chiamerà più Abbat Channel ma si chiamerà Lo strano caso di Andrea Beneventi quindi adesso che noi abbiamo messo in chiaro le cose che fine faranno gli altri video? state tranquilli perché non farò lo stesso errore che feci tantissimo tempo fa ovvero quello di eliminare il canale Neon Sonic per poi ricrearne un altro i video rimarranno pubblici dal primo all'ultimo ovviamente senza contare i video già privati, sia chiaro siamo arrivati alla fine di questo video mi dispiace a tutti coloro che si sono abituati col teppo a sentire il classico recensore impostato musicale però io preferisco stare su internet divertendomi portando quello che io mi sento di portare e comunque non ho mai detto che in futuro non porterò mai più una recensione musicale se capiterà un giorno di questi dove io sono a corte di idee e mi sto appassionando a un disco in particolare allora ne parlerò su internet però non è detto che quello là sarà il topic di punta come al solito da Andrea Beneventi è tutto ciao